bene sono contento allora mettiti orizzontale non ti vedo più sto dialogando con qualcuno che sta entrando allora ld primo è vero sei primo picchio tenace ciao ronny ok ciao condividete la diretta benvenuti benvenuti a questa diretta di we have a dream e per non farci mancare niente nell'attesa vediamo un po perfetto lo vedo quindi possiamo mettere la sigla allora benvenuti a we have a dream a Eccoci qua, benvenuti in diretta, benvenuti a We Have a Dream e partiamo subito, partiamo subito con un artista che sono molto contento che sia qui perché? Perché si può dire che un po' l'ho visto crescere ed è lui, ciao! Ciao Red! Dall'ultimo volta tu hai visto, hai tagliato i capelli prima di tutto, perché avevi i capelli Sì, ho fatto un taglio ai capelli, per averli più ordinati Poi dopo, ti ho visto Sanremo completamente trasformato, cioè proprio con un'energia pazzesca la cosa mi ha fatto piacere Poi dopo, un'altra cosa bella, ti ho visto insieme a Edoardo Bennato Sì, peraltro sei stato uno dei primi a farmi ci avvicinare Sì, cosa c'è? C'è l'eco della sua voce? Non so, perché c'è l'eco della sua voce? Non è che c'è il tastino spinto lì? No, io non ce l'eco, qui ce l'hai l'eco? Forse qui? Non so, va bene, mi sembra che sia posto Allora, fra l'altro il duetto che tu hai fatto a Sanremo con Edoardo secondo me doveva vincere assolutamente l'ho anche scritto, l'ho anche scritto questo fatto È carino che sia Ma no, non sono carino, è vero perché in questo periodo iniziare con e adesso basta sangue iniziare a cosa serve la guerra è secondo me un qualcosa di importante e quindi stai facendo cose molto belle, Leo In realtà cerchiamo di portare un messaggio chiaro il messaggio della pace appunto in un momento così difficile storicamente dove comunque continuano ad esserci guerre per me è stato molto emozionante essere con Edoardo su quel palco e insomma per me lui è un maestro ed è stato bello comunque essere anche impegnati su quel palco che poi comunque è un palco che intrattiene tante persone però è anche importante ogni tanto portare dei messaggi secondo me diversi Dove sei Leo in questo momento? In questo momento sono un amico che è un artista con il quale collaboro che facciamo tutto insieme facciamo le copertine insieme e ha cucinato una pietanza africana infatti adesso dopo vado a mangiare con loro Che cos'è la pietanza africana? Cosa c'è nella pietanza africana? Ma loro fanno queste crepes diciamo con dentro il platano che mi sembra una sorta di banana diciamo però africana e poi ci mettono dentro tutte delle salse piccanti insomma è una roba Ma lui dov'è? Lui è africano lui? Sì è sudafricano si 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 parla solo inglese però Beh chiamalo qui scusa eh Ma non capisce non capisce l'italiano Ma io capisco l'inglese però gli parla l'inglese lo saluto Vuoi che te lo invito? Va bene d'accordo Aspetta Arriva Arriva È bello perché te sta andando a invitare vedi a parlare Mi piace vedere mi piace vedere le frequentazioni Vediamo che succede Ok Allora Allora Noi è Giggs Ciao Hi Ciao Ah no No Mi piace vedere che ci stiamo collaborando insieme Oh Oh Amazing Sì So Mi nome è Giggs Gilles Yeah Ma Do you play un instrument? Suono uno strumento? No 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 Do you have Do you have a piece of art done by you here to show Uh Physically Here Let me quickly have a look I'll be back Ok 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 Siediti tu Leo No 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 Ma mi piace Mi piace Perché Tu stai Stai interagendo con artisti Io ti vedo Anche Anche Su Instagram Eccetera Dove tu Metti Fai cose Ai musicisti Stai Cioè Stai sperimentando Questo è bellissimo Sì Io sto cercando Comunque Di crearmi Una famiglia In questi anni Ho avuto La possibilità Di conoscere Tante persone Diverse Eccolo Guarda Ok So I'm currently I'm running Two exhibitions So I don't have Any physical art In the house Ha detto che sta facendo Delle 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 mostre In giro Per il mondo Quindi non ha Dei pezzi Di arte In casa Sua Ma c'ha Questo libro Con Questa è una Sua È una Delle sue Opere D'arte Questa è la cover del catalogo di questa mostra che ha fatto molto importante This was in London A Londra E qual è il suo nome scusa? Qual è il tuo nome? Your name is? My name is Giggs 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 Ah Bello Cavolo E ma scusa Che cosa c'entra lui? Che pezzi fate Scusi insieme? Perché la copertina del tuo album È in bianco e nero È una foto Dopo la mostro Sì Abbiamo Abbiamo lavorato Alle copertine dei singoli Della mia libertà E di lunedì Che erano i due singoli Diciamo Che sono usciti prima Dell'uscita dell'album E poi Adesso lavoreremo anche A A tutti i visual Anche dei concerti Insomma Giggs È Fortissimo Quindi Sa fare qualsiasi cosa E insieme Ci mettiamo lì Disegniamo Costruiamo E anche Siamo amici Quindi comunque Passiamo del tempo insieme E quando lui c'è i suoi progetti Lui mi coinvolge a me E quando io ho i miei Cerco di coinvolgerlo io No Sai una cosa che mi viene in mente Quando in futuro Avrò di nuovo il programma dal vivo Se un giorno verrai suonare dal vivo Può venire lui E intanto dipinge Perché questi qui li puoi fare anche live Mentre tu suoni Certo Certo Assolutamente Assolutamente Quando Leo Will come to play live You could come with him And paint During his performance I love that Eh Ok 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 Sarebbe una figata Eh So good Congratulation And good dinner Ok Grazie 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 Ciao 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 Allora Visto Visto Leo Che hai parlato Di copertina Cioè Fammi capire Questa foto Di te che sembri un bambino arrabbiato Che cos'è? Beh Questa è Questa praticamente è una foto Che ho realizzato sempre con un altro mio Carissimo amico Francesco Rampi Peraltro è stata scattata nel mio liceo Dove ho studiato Dove mi sono maturato E rappresenta l'artista bambino Che è in ognuno di noi Quindi io in realtà Quando guardo quella foto In realtà vedo me da bambino E poi comunque il concetto di rinfanzia È un concetto che a me piace spesso Comunque tirare fuori Anche attraverso i miei testi Perché credo che comunque i bambini Abbiano il futuro nelle loro mani E che meritino comunque di crescere In un mondo in pace Senza guerre E soprattutto dove c'è dell'aria buona da respirare Perché poi comunque stiamo distruggendo questo pianeta E non stiamo facendo a sufficienza per salvarlo E quindi diciamo che è un po' Una sorta di dedica ai bambini E alle nuove generazioni Comunque io cerco spesso di nutrire l'artista bambino che è in me E credo che in ognuno di noi esista un artista bambino Che va nutrito Leggevo questo libro di Giulia Cameron Che parla appunto del fatto che E dentro ognuno di noi Al di là del mestiere che facciamo Esiste un artista bambino o un artista bambina E come nelle coppie che sono separate Almeno una volta a settimana Bisognerebbe dedicare del tempo a quel bambino A quella bambina Quindi magari portarlo al cinema Andare al cinema da soli Andare a cena da soli Farsi una passeggiata Perché è importante curare noi stessi E curare appunto quello che abbiamo dentro Perché spesso ci riempiamo di lavoro E ci dimentichiamo che in realtà La cosa più importante è stare bene E curare la nostra creatività Che è all'interno di qualsiasi tipo di mestiere Anche un pasticcere è un creativo Anche un barista è un creativo A seconda di come serve il caffè Di come sa parlare con i clienti Quindi insomma Credo sia importante Luciano Pepe scrive Il fanciullino del Pascoli Invece Giovanni Verdoliva scrive Leo Gasman È uno dei pochi artisti giovani Che invece di inseguire le mode del momento Vanno controcorrente Realizzando buona musica Grazie Gio Grazie mille Ci proviamo dai No no Io la cosa che ammiro di te Leo È la tua pulizia Cioè tu hai Se uno chiede Dimmi la prima caratteristica Che ti viene in mente di Leo Gasman Io dico la pulizia La pulizia nel volto La pulizia negli occhi La pulizia in quello che fai Cioè sei pulito E quindi è una cosa Che mi piace moltissimo Allora io ti faccio vedere Una cosa perché poi vorrei Commentare Allora noi oggi Dico subito Noi non Non riusciamo ad ascoltare musica Per un motivo molto semplice Perché lui ha un contratto discografico Un'etichetta E non è possibile Far vedere il suo video Non ha la chitarra con sé Quindi non è possibile Però ci temo a fare Questo collegamento Perché lo stimo moltissimo La cosa che ti voglio dire È un'altra Vorrei commentare con te Senza ascoltarlo Fra l'altro Il video Del terzo cuore Ha già fatto due milioni Di visualizzazioni Stanno andando forte Ah non lo sapevo Non avevo visto Che ha fatto due milioni Di visualizzazioni Bella roba Ma perché tu non vai dietro Non sei uno che controlla E guarda le cose Ma guarda Ogni tanto sì Però in realtà In queste settimane Sono state delle settimane impegnative Che sono stato in giro A fare un po' di in store Poi insomma Mi sono anche un po' Ricollegato con me stesso Sono tornato All'accademia di recitazione E ho dovuto pensare Anche a delle cose burocratiche Che dovevo fare Anche in merito A una borsa di studio Che mi hanno dato A Boston Che devo ancora valutare Se fare o no Quindi insomma Sono state delle giornate Molto impegnative Dove ho dormito Ho dormito poco E questi sono i primi giorni In cui sto un attimo Riprendendo coscienza Di me stesso Quindi Non ho avuto il tempo In realtà Non mi è passato Per la mente Di guardare Che numeri stesse facendo Su Youtube Il brano Ecco Ma questo ti fa onore Comunque The Mook dice Tempo fatto Ti incontrai a Roma E poi scrive anche Infatti avevi Una chitarra La chitarra Nella metro Quindi Ecco Ecco Ragazzo Semplice E sincero Giustamente Leo Gasman Se hai la stima di Redronni Vuol dire che sei proprio forte Complimenti Quindi Allora Invece io Voglio andare Con te Leo Su questo Aspetto Eccolo qua Questo è La strada per Agarta Io vorrei E poi ci sono i titoli Dei brani Dei brani Del tuo album Giusto Sì Esatto È già uscito Questo album Sì È già uscito Questo album Sì È uscito Un paio Di settimane Una settimana E mezzo fa Dai Allora Faccio un esperimento Che non è mai stato fatto Cioè tu mi racconti i brani E non li ascoltiamo Uno ce li va a ascoltare Nell'album Allora Prima di tutto Perché la strada per Agarta Cos'è Agarta Allora La strada per Agarta Perché è un Praticamente Mi sono ispirato A un libro colletto Che si intitola Il Dio Fumoso Di William Emerson Che è una sorta Di viaggio di Gulliver Ambientato Nell'Ottocento E si presenta Come una raccolta Di appunti Di due naufrei Che arrivano Su questa terra Sperduta Diciamo È una leggenda Agarta Fa parte di una leggenda Che si basa Sul concetto Della terra cava Che è quella leggenda Per la quale La terra Al suo interno In realtà Non è piena Ma è cava E all'interno Esiste Un pianeta parallelo Diciamo Con un solo a sé Che sarebbe Quello che noi Identifichiamo Come il nucleo Che gira Intorno appunto A questa terra Magica Ed è una terra Abitata da creature Meravigliose Sono giganti Che vivono di musica Agricoltura E vivono molto più lungo Degli esseri umani E comunicano A distanza Di chilometri Con questi canti Che studiano a scuola Per decenni E questi naufraghi Arrivano su questa terra E conoscono appunto Le bellezze Di questo Di questo meraviglioso luogo E incontrano questi giganti Che gli insegnano appunto La bellezza dell'arte E quindi io mi sono immaginato Di intraprendere Questo viaggio Dato che comunque In questi tre anni Ho fatto tante esperienze diverse Sono stato a Londra Dove ho avuto il piacere Di collaborare con I Will and the People Che è una band Che stimo molto In Inghilterra Poi c'è una collaborazione Con un artista indiano Cioè ci sono delle collaborazioni Con i miei migliori amici Come Matteo Costanzo Che è uno dei principali Produttori dell'album Con il quale poi abbiamo fatto Anche una collaborazione In un brano Poi c'è Giovanni Caccamo C'è Riccardo Zanotti Dei Pinguini Tattici Nucleari Con il quale ho scritto Due brani Che sono quello Che ho portato a Sanremo E poi Volo Rovescio Che diciamo è Il continuo Di questa collaborazione Tra me e Riccardo E diciamo poi Anche vedi le copertine Oggi avete conosciuto Geeks Tutti i videoclip Sono stati curati da me Dai miei amici La cover è stata scattata Da uno dei miei migliori amici Francesco Rampi Quindi siamo una grande famiglia E ogni brano Ogni dettaglio Nell'album È stato curato Da delle persone Che in realtà Letteralmente Ho incontrato per strada Persone che magari Non facevano neanche Questo di mestiere Che però secondo me Vavano un grande talento Io ho creduto in loro Loro hanno creduto in me Nel progetto E quindi mi piaceva Questo concetto Appunto della strada Della ricerca Della bellezza Della musica E dell'arte in generale Sì ho capito Ma tu pensi davvero Che esista una terra cava? No Allora Allora A me piacerebbe Che esistesse Agarta Perché è un luogo Senza guerre Senza disparità sociali Ed è un po' Anche il concetto Che esprime Edoardo Bennato Appunto Nell'isola che non c'è Un luogo Magico Dove non esistono Non esistono Nemici Non esistono guerre Ovviamente Purtroppo Insomma La scienza È andata avanti Di tanto E credo che comunque Non l'abbiano trovata Ancora Agarta Però ci sono delle Ci sono delle porte In realtà Sai che Ci sta una porta Mi hanno detto Se non sbaglio Vabbè Al sud d'Italia C'è la porta di Agarta Che è una delle tre porte Di Agarta Che dovrebbe portare In quel mondo E poi pare che in realtà Addirittura anche Mussolini Nella seconda guerra mondiale Provò a fare degli scavi Per cercare questo luogo Perché Si diceva che Ad Agarta Ci fosse un tesoro Nascosto Immenso E quindi appunto Cercherono di fare Questi scavi Per trovarla Ma non la trovarono mai Beh sai Ci sono veramente Delle porte D'ingresso Addirittura hanno visto Degli Degli Astronavi Infilarsi dentro Dei vulcani E andare sotto O infilarsi nel mare E andare sotto E poi C'è questo Cioè Dicono che Si chiama Che ci sia l'Eldorado Che ci sia veramente Questa terra cava Cioè che all'interno Della terra Ci sia un sole Ci sia qualcosa Quindi Inoltre Giulio Verne Viaggio al centro Della terra Sai Non era tanta fantasia Cioè C'è veramente Molto Ok Ma guarda Io mi auguro Però sai Io sono una persona Molto Da questo punto di vista Sono molto cinico Sfortunatamente in realtà Perché per dirti Anche quando Quando mi parlano Di religione Io invidio molto Le persone che riescono A credere in qualcosa Che non hanno mai visto Capito E quindi Mi auguro Che esista un posto Così meraviglioso Dare qualsiasi cosa Per visitarlo Però io purtroppo In questo Sono un po' cinico Nel senso che Fino a quando Non vedo le cose Non riesco a crederci E un po' mi dispiace Perché poi Comunque Quel tipo di immaginazione Anche quel tipo di speranza Secondo me È una grande forza E ognuno Ha un tipo di speranza Particolare Cioè ci stanno I tifosi di calcio Che hanno la speranza Nella squadra Poi ci sono i religiosi Ci sono i filosofi E poi ci sono i cinici Tipo me Che purtroppo Hanno poco a cui Aggrapparsi E che Devono combattere Ogni giorno Con la consapevolezza Di non avere Quel tipo di forza Io Io invidio molto Le persone che credono Tantissimo Veramente Ma guarda che tu L'hai vista La Terra Cava Dedicando un album Ad Agartha La tua fantasia L'ha già vista L'ha già visitata Leggendo quel libro Tu sei stato Ad Agartha È vero È vero In parte In parte sì In parte sì In realtà La mia Agartha È composta Da questi giganti Che sono le persone Che hanno avuto Il piacere Di collaborare con me Di ospitarmi Anche a casa loro Io comunque Anche quando Sono andato in Inghilterra Sono stato Dieci giorni Dentro a questa casa Con questa band Assurda Che sembrava Di stare dentro A un film Negli anni 90 Nella casa Di una band Incredibile Cioè È stata Un'avventura meravigliosa Era la mia prima volta In Inghilterra Comunque Non è mai scontato nulla E quindi Per me È stato È stato bellissimo Perché poi Sono delle cose Che mi sono costruito Da solo Perché poi Insomma La mia famiglia Fa cose completamente diverse Dalle mie E quindi È stato È stato bello Crearmi questa piccola famiglia Che adesso Collabora con me A ogni cosa E piano piano Facciamo i nostri piccoli passi Verso la nostra Garta Senti Quindi Agarta È questo Il brano L'hai scritto tu O con la collaborazione Di qualcuno Il brano Agarta Che apre l'album Allora Il brano Diciamo che La prima traccia Intitolata Agarta È Praticamente È Una poesia Che ho rielaborato Insieme a Giancarlo Scarchilli Era una poesia Insomma Che mi commosse Moltissimo Quando l'ascoltai Per la prima volta E poi L'abbiamo rielaborata Sul concetto di Agarta Insieme a Giancarlo Scarchilli Che è l'autore originale Diciamo Della poesia E la poesia È recitata da Massimo D'Apporto Che è stato uno dei giganti Che ho incontrato Appunto in questo percorso Che mi ha prestato la sua voce Sia per Per l'intro Che per l'auto Del disco Perché poi comunque Dietro a questo album Che è Un concept album C'è proprio Una sorta di struttura Fiabbesca Che sono Poi si ricorda Che collega sempre Al concetto dell'infanzia Io quando ero bambino Per addormentarmi Ascoltavo le fiabbe E E questa Questa cosa Più il fatto Che la voce di Massimo Mi ricordasse molto Casa Perché la voce di Massimo Mi ricorda tanto Anche la voce di nonno Mi ha portato Comunque poi dopo A realizzare Questo concept album Cioè Perché comunque Ho cercato di collegare Il concetto di Agarta Al concetto di fiabba E poi è arrivata pure La voce di Massimo Che è stata un po' La ciliegina sulla torta Diciamo Del percorso Ecco Allora Un po' di messaggi E poi continuiamo Con l'album Questo ragazzo Mi sa Di alieno Già di alieno Anche se non sa Di esserlo Wow Scrive l'orella Questo ragazzo Ha la sapienza Di un'anima antica Gli auguro di sviluppare Al massimo Le sue potenzialità Allora Leo Bello Leo Tesoro bello Credere Significa sentire Non c'entra La religione Tu continui a sentire Il tuo cuore E scoprirai Un mondo Bellissimo Ho sentito La canzone Di Leo Gasman A Sanremo Non ho capito Perché non è arrivata Tra le prime Purtroppo La giuria di Sanremo Non accorreva niente Allora Quello Che Leo Il figlio Che tutti vorrebbero Mamma mia Allora Secondo brano Nell'album Di questo album Concept Che non sapevo Fosse un album Concept Quindi mi piace La mia libertà Che cos'è? La mia libertà È un brano Insomma Che parla Del concetto Di libertà Il concetto Di libertà È molto Soggettivo Io l'ho collegato Al concetto Dell'infanzia Quindi Quella voglia Di tornare A vivere Delle piccole cose Delle cose semplici Come anche Semplicemente Respirare l'aria O fare l'amore Fino al cambio stagione Dice il ritornello Tornare alla cattedra Tornare sui banchi Di scuola Perché poi C'è questa cosa Che quando Che quando siamo Bambini Vogliamo Che la scuola Finisca subito Però poi dopo Avvena finisce Non vediamo l'ora Che torni Però non tornerà più A me un po' Mi mette paura Questa cosa Che il tempo passa E ogni giorno Che passa C'è sempre meno Ci sono sempre meno Cose che possiamo Fare Nel senso Che poi comunque Alla fine Una volta Cioè ogni tanto Mi fermo A pensare A dire Cavolo 24 anni Non potrò mai Essere un astronauta Cioè se un giorno Mi venisse la voglia Di essere un astronauta Non sono più In tempo Per farlo E quindi Rifletta appunto Sul concetto Di libertà Ed è una canzone Che io ho dedicato Appunto ai bambini Che scappano Che scappano Dalle guerre Che purtroppo Vivono sotto le bombe Ancora oggi Volo rovescio È il terzo brano Sì Volo rovescio È un brano Che insomma Ho scritto Sempre con Riccardo Zanotti È il continuo Della collaborazione Con Riccardo Zanotti Ed è un brano Che invece Molto Molto felice Molto happy Nel senso che è un brano Pensato anche per i live Per far saltare le persone E farle divertire Però comunque Nel suo Nella sua Diciamo Leggerezza In realtà Tocca La tematica Dei pregiudizi Cioè Infatti Nella prima strofa Accenno Appunto Il pregiudizio Che io devo combattere Che è quello del cognome Nella seconda Invece Quello del colore della pelle E appunto Nel bridge Dico Aiutami a perdere Il cognome che ho Perché le cose importanti Sono quelle che ignoro E che ancora non conosco Poi Dopodiché C'è Caro Lucio Che chiaramente È dedicato a Lucio Dalla E tu C'hai anche una storia Su tua zia Vittoria Mi racconti questa storia? Sì Io ero in viaggio Con mia zia Vittoria In macchina Ho questo ricordo Di quando ero bambino Che feci questo viaggio Con mamma e zia Vittoria Che mise questo brano Eravamo in Connecticut Che è una regione Che sta sopra Sopra New York E niente Praticamente Mi ricordo Che il Connecticut Durante l'autunno Ha queste foglie Di questi Cioè ha queste foresti immense E gli alberi Cambiano colore Sembra di guidare All'interno dell'arcobaleno No? Nel senso Perché poi Ci sono foglie Che sono rosse Verdi Gialle Biola Blu E mi ricordo Che a un certo punto Dall'aria diolina Mise questo cd E partì appunto L'anno che verrà E mi ricordo appunto Mia zia Americana Che io vedo poco Perché appunto Vive in America Cantare appunto L'anno che verrà Con il suo accento americano E poi Dopo tanti anni Quando è scoppiata La pandemia Al telegiornale Appunto Annunciavano Che ci avrebbero chiusi Io ero in un momento Particolare della mia vita Perché avevo appena vinto Sanremo Giovani E insomma Avevamo fatto Per noi Era un trionfo assurdo Perché era una cosa Che non ci saremmo mai Aspettati Neanche lontanamente Di vincere Sanremo Giovani E poi mi vedi Comunque chiudere tutto Davanti a me E quindi scrissi Questo brano Perché avevo bisogno Di parlare con Con qualcuno Che sapevo Che non mi avrebbe mai giudicato E mi sono reso conto Che nessuno Aveva mai risposto All'anno che verrà Che è una sorta di lettera Che Lucio scrive A un suo amico E che rispecchia moltissimo In quello che dice Anche il periodo storico Che stiamo vivendo C'è chi ha messo I sacchi di sabbia In cima alla finestra Si sta senza parlare Per interi settimane E quindi io Nella mia Appunto Appunto Come normale ragazzo Diciamo che aveva Paura E bisogno di parlare Con qualcuno Mi sono appellato A lui Che è per me Una pietra migliare Appunto Della musica italiana Te lo ricordi Il testo Che hai scritto Caro Lucio ti scrivo O no Certo Me lo dici Allora Dico Nella seconda strofa A me piace tanto La seconda strofa Che dice Caro Lucio Ti scrivo Perché in cielo Non ci sono più ali Sono scomparsi Anche i fili I fili delle radio Ho tanta paura Non solo per gli altri Ma anche per me stesso Non sono più me stesso Ho perso il tempo Ho perso me E poi a un certo punto Dico Avrei bisogno Di un consiglio Da te Ma so che Non potrei rispondere Ma ho bisogno Di tentare Bello Poi Andiamo avanti Mi piace questo album qui Without You Sei con Will and the People È in inglese quindi Sì È il mio primo brano ufficiale Uscito in inglese Ed è l'inizio Comunque anche Di un progetto A parte Che vorrei Che vorrei portare avanti Che è appunto Un progetto internazionale E che ho iniziato Appunto Con questa band Will and the People Abbiamo arrangiato In realtà Un intero album Che poi Credo che uscirà Spero Il prima possibile Ma scusa Ma Leo Ma Will and the People È il gruppo Con cui eri In casa a Londra? Sì Sì Sono loro Ok Va bene Quindi c'hai una parte Poi dopo c'è Terzo Cuore Che è il brano Di Sanremo Che è veramente Molto bello Io fra l'altro Ho visto Purtroppo le ho salvate Volevo mostrare Delle storie Nell'altro computer Che è a casa Perché hai fatto Delle storie su Instagram Bellissime Che io mi sono copiato Con tutti i ragazzi Che cantavano Terzo Cuore E tu mettevi I pezzettini Ed era molto bello Terzo Cuore È veramente un bravo Bello brano Poi c'è una collaborazione Con Edoardo Bennato Io vorrei Che per te Sì Che è un brano Che parla Del cambiamento climatico Ed è un brano Insomma Che torna a parlare Dopo tanti anni Dell'isola che non c'è Ma questa volta Con la speranza Che sia un posto Che possa esistere Realmente E Insomma Edoardo Per me In questi anni È stato molto importante Anche a livello umano È una persona Che sento quotidianamente Con la quale mi confronto Sia su tematiche sociali Che umane Che artistiche Ed è Diciamo Per me È un grande onore Averlo in questo In questo viaggio Perché insomma Per me lui È stata fonte Di grande ispirazione È un maestro È stato comunque Uno dei primi A fare concept album Anche in Italia Quindi non ti nascondo Che sicuramente L'influenza di Edoardo Ha contribuito moltissimo Anche alla mia scelta finale Di creare un concept Album Però è bello appunto Questo brano in particolare Perché è un brano Che dove due generazioni A confronto Combattono per la stessa causa Che è appunto La lotta al cambiamento climatico Che è Per quanto mi riguarda Il principale problema Che va risolto Al prima possibile Perché io dico sempre Se non si risolve Il problema climatico Non ci sarà più Neanche Nessun altro problema Da poter risolvere Perché se muoiono I pesci Non c'è più Aria respirabile Le parti del mondo Diventano inabitabili Non c'è neanche più tempo Per fare la guerra O per trovare un modo Per risolverla Ecco Ottavo Ma chi l'ha scritto Io vorrei Che per te Edoardo Fuori di testa È l'ottavo brano Sì Fuori di testa È un brano rock Che è partito Diciamo Da un giro di accordi Dei Pixies Che io ho ripreso E ci ho scritto sopra Diciamo Una versione La mia Cioè Una canzone appunto Che è un brano Pensato molto È molto da stage diving Per fare casino Ai concerti E questo è proprio Un brano Che non c'è Nel senso È un brano È uno sfogo Di un amore Che non è andato bene Ed è un brano Che credo Che sia il più divertente Da suonare live Perché è pieno Di batterie Chitarrone E insomma Sarà E poi io Io strillo Quindi anche Una nuova versione Di me Dove in realtà Non me ne frega niente Di come sto cantando Ma è proprio Uno sfogo Di Gioia e dolore Diciamo Dai Allora Dice Ascolterai Leo Perore Artista e persone Davvero interessante Leo Veniamo Al nono brano Lunedì Chi è l'ennesimo Che c'è l'ennesimo In questo brano Sì L'ennesimo È un artista Che ho conosciuto In furgone Mentre viaggiavo In giro per l'Italia E E Mi ricordo Che cantò Questo brano In una fiera In una fiera Davanti a Appunto Erano tutte le persone Comunque abbastanza grandi C'era questo brano Comunque Insomma Che era Molto Molto teen Molto Molto giovanile Però a me mi divertiva Tanto Perché insomma È un brano Che parla di Anche quello di divertimento Non è un caso Che fuori di testa Lunedì Siano Siano messe vicine Perché sono due brani Che comunque A me mi diverte cantare Cioè comunque A me piace Sia curare una parte Cantautorale Dove comunque Affronto delle tematiche Magari un po' più profonde E a volte Mi piace anche fare Dei brani Che mi diverte proprio cantare Dove sul palco Mi diverto salto E mi abbraccio Con le persone Cioè secondo me È pure giusto Ricoprire quella parte Lì musicale Ed è un brano Che ho voluto subito fare Ce l'ho conosciuto Stavo in furgone Ho sentito lui cantare Ho detto No dobbiamo assolutamente Farlo insieme E poi alla fine L'abbiamo fatto Abbiamo pure realizzato Un video Sempre con Geeks È un altro Mio amico americano Abbiamo fatto un video Amatoriale Diciamo un po' Un po' anni 2000 Ci siamo divertiti Red? Ah no Ecco qua Siamo a metà È il decimo brano Delle strade per la garta Com'è? Cos'è? Ma siamo a metà È un brano che ho scritto Con Lodo Guenzi Che è uno dei Diciamo frontman Dello stato sociale Che è una band Che stivo moltissimo Ed è un brano Che io mi immagino Di suonare Dentro a uno stadio Perché Insomma È un brano Che parla anche Quello di un amore Che non si sa Di come Di come andrà a finire Però insomma Gioca su questa Ha una scrittura particolare Che a me mi diverte molto Anche Cioè Ha una struttura molto Molto dolce È una canzone d'amore Principalmente Poi abbiamo Maledizione Sì Maledizione Parla di un Di un addio Cioè Di un Di quel momento In cui Ti rendi conto Nella vita Che ami tantissimo Una persona Ma poi Devi avere il coraggio Di lasciarla andare Perché spesso Amare qualcuno Sia dal punto di vista Di un'amicizia Che di un amore Insomma Bisogna trovare spesso Il coraggio Di dover lasciare andare Delle cose Per non ucciderle Per non sopprimerle Per non levargli l'aria Ma ti è accaduto? Sì Certo Certo Mi è accaduto Mi capita spesso In realtà Ma sei sempre con quella Ma sei sempre con la ragazza Che avevi l'anno scorso O hai cambiato? O sei solo? No no Non sono fidanzato Non sono fidanzato Ah Quindi quella Con cui hai fatto il viaggio Non c'è più? No 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 vabbè Ma è passata la vita Ah ho capito Va bene E difatti Il brano successivo È In un addio Perché è stato Un addio Quindi Che c'è Matteo Che questa parte qua del disco È tutta dedicata all'amore Diciamo In un addio In realtà Non è un brano che ho scritto io Ma l'ha scritto Matteo Costanzo Ed è uno dei brani più belli Che Matteo Costanzo Secondo me ha scritto Perché Parla appunto Di un addio Ma in una maniera Molto 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 pura Molto trasparente Ed è uno dei brani Che mi emoziona di più Da cantare Perché Insomma Parla appunto Di Di due persone Che hanno dei sogni diversi Dei sogni diversi Ma lontani Diciamo Che sono destinati Comunque A finire E a prendere Due strade diverse Ed è Diciamo che per me L'importanza di questo brano Nell'album È Perché appunto È Cantata con Matteo Che è una delle persone Che ha creduto in me Fin dall'inizio E quindi Mi sembrava giusto Comunque coinvolgerlo E averlo all'interno Del disco E fare qualcosa insieme Avere le nostre voci Per sempre unite In una traccia Ma sai che io non conosco Matteo Costanzo? Eh Matteo Costanzo È un grandissimo produttore Nel senso È un produttore Con il quale collaboro Lui ha lavorato Con un sacco di artisti È Con Ha fatto tantissime cose Però è anche un grande Un grande cantautore Io lo stimo moltissimo È la persona con la quale In realtà Condivido le mie giornate intere Quando faccio musica Io non ho paura Io non ho paura È un brano che è nato In viaggio In furgone Ed è un brano Che ho scritto Guardando appunto Queste montagne calabresi Ed è un brano Che appunto Parla appunto di Ha questa sonorità Molto giovanottiana Se vogliamo Perché era il periodo In cui ascoltavo Tantissimo giovanotti E mi è venuto appunto Questo testo Che parla appunto Sì Della voglia Del non aver paura Nell'affrontare Delle situazioni Ed è un brano Sognante Molto È un po' Tra giovanotti E i Coldplay Poi comunque Io mi ispiro molto Anche alle sonorità Delle band inglesi È un brano Devo dire che è un brano Che piace tantissimo Alle persone più grandi Perché credo Abbia una delicatezza Sia nella scrittura Che nel modo Appunto Di essere interpretato Più maturi Ecco Poi Il disco Finisce Con un brano Che sono curioso Perché Figli dei fiori Ma cosa senti tu Con i figli dei fiori Siamo alla fine Degli anni 60 I figli dei fiori Power Flower Power Non è un caso Che sia probabilmente La cosa più bella Che sento di aver fatto Fino a oggi Nel senso che Io sono sempre molto critico Con le mie cose È uno di quei brani Che non so Se riuscirò mai A scrivere ancora Perché è avvenuto In una maniera Così naturale Così pura Si intitola Fili dei fiori Perché parlo Di questo periodo storico Nel quale Ci sono poche guide Pochi fari E nel quale Io sono cresciuto E non mi sono mai sentito Rappresentato E quindi parlo Di questi falsi eroi Che sono Questi eroi Che vengono elogiati Come tali Ma che in realtà In realtà Non Non sono dei veri eroi Cioè gli eroi Sono quelli Che magari mia madre Mi narrava Quando ero bambino Che mi raccontava Di queste persone Che In un modo pacifico Magari creavano Delle rivoluzioni Nel mondo E salvavano il pianeta Dall'odio E dalla fame E poi C'è questa collaborazione Con Raul Che è questo artista indiano Che io ho conosciuto Alla mia università Suonava il pianoforte Nell'aula magna E non era mai stato in studio E l'ho sentito cantare E mi sono innamorato E ho pensato Sarebbe perfetto Se scrivesse qualcosa Su Fili dei fiori Cioè due culture diverse Che si uniscono E combattono Insieme per qualcosa Infatti l'ultima frase È Se ci proviamo insieme Sarà migliore Perché appunto È un brano Che parla di ripartenza Del cercare di Tornare a dialogare Tra le generazioni E devo dire Che Raul Ha dato un contributo Meraviglioso Perché ha scritto Una parte in indiano Veramente commovente Se si legge la traduzione Di quello che dice Ok Abbiamo ascoltato a parole Tutto l'album Mi ha fatto l'esatto contrario Di quello che fanno in radio In radio Non raccontano la musica La si ascolta solo E la solita musica Qui invece abbiamo raccontato Un disco Non possiamo ascoltarlo Ripeto perché Per le questioni discografiche Non possiamo ascoltare la musica Però È stato molto bello Questo racconto Complimenti per l'album Grazie Grazie del tempo Grazie mille Ok Stiamo parlando Delle strade per Agarta Che è l'album È il primo tuo album Praticamente Di Leo Gasman Sì Diciamo Feci uscire un album Ma io lo considero Il mio primo vero album Perché insomma Ci ho dedicato Tre anni della mia vita Ed è sicuramente Il primo album Realizzato da Se vogliamo Aspirante Cantatore Maturo Aspirante Cantatore Maturo Ok Ciao Leo In effetti tu hai Il volto e gli occhi Da bambino Ma ragioni come un grande È stranissima questa cosa Cioè ragioni come uno Che ha un'esperienza Incredibile È fantastico Ci proviamo Dai facciamo del nostro meglio Ti lascio Alla tua cena Ok Ciao Leo Grazie mille Ciao Leo Gasman Leo Gasman Bello no? Sì Quelli che Allora Ci tengo a dire Una cosa Perché evidentemente Ci sono alcuni Che Forse è la prima volta Che entrano dentro Il mio programma Qui non si va A cercare la polemica Quindi quelli che mi chiedevano Ah ma Chiedigli Se secondo lui Che ne so Amadeus l'ha trattato bene Oppure chiedi Cosa ne pensa Degli altri concorrenti Saremo Ma perché A cosa serve Cioè Facciamoci raccontare Sono belli i racconti Io dico sempre Che i programmi Che sto facendo L'Espensa Tourney Together Soprattutto Ma anche questo We have a dream È come trovarsi Attorno a un caminetto Attorno a un fuoco In spiaggia Ecco Uno che racconta Le cose E si ascolta Tranquillamente Leo non abbandonare L'eredità Di 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 Tuo nonno Ecco Con giovani così C'è ancora speranza Padron Padron Frodo Quindi Il tesoro Questi sono Questi sono I tesori Che noi abbiamo Bevi biovitale Hai ragione Beviamo un po' di biovitale Ragazzi Fra adesso mi occuperò Di nuovo di biovitale Perché stanno uscendo Altri prodotti E Le persone che hanno Operato biovitale Sono tutte entusiaste Prossimamente Prossimamente Vi ho fatto vedere L'altra Ieri sera Guardate Questa è un'altra Tazza We have a dream Sono prototipi Sono solo prototipi Ragazzi Allora Oh POM Lui si chiama Matteo Polonara Però in arte È florilegio Ciao Ciao Matteo 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 sto parlando con te Matteo Matteo sto parlando con te Questa è bellissima questa conversazione Matteo Vabbè lo sbatto giù E poi dopo tornerà dentro E dialogheremo Non senta Passiamo al prossimo Passiamo al prossimo Adesso Non c'è problema È andato Noi aspettiamo il Barone Rosso Sì anch'io aspetto il Barone Rosso Benvenuto a Florilegio E vediamo se adesso c'è Matteo Mi sentite? Certo Adesso sì Tu mi senti? Tu mi senti? Matteo Can you hear me? Mi senti? Mi senti? Mi senti? No Non mi sente Vediamo Intanto Allora Sera a tutti Ciao Mi sentite? Tu mi senti? Ma io non Tu mi senti? Tu mi senti? Che cazzo ha combinato Tu Matteo? Sta giocando Con le cuffie Di qua e di là Matteo Matteo Solo sbatto giù di nuovo Vabbè Mi sa No Mi sa che non sente Hai ragione Sai che Nicola Mi hai dato un suggerimento Forse non sente davvero Hai capito? Arca vacca ragazzi Allora Continuiamo Non c'è Allora Allora Eccomi Grazie per stasera Lui è bravissimo Sto parlando di Leo Gasman Ragazzi Facciamo entrare il prossimo Io qui Prima abbiamo fatto le prove Sentiva benissimo Quindi Nel frattempo dunque Vediamo un po' Nel frattempo Di che cosa possiamo parlare Che cosa è successo Allora Dunque Dicevo Dicevo che Eccolo qua Vediamo se adesso sente Mi senti? Adesso mi senti? Sì Ho cambiato cuffie Non so perché Non mi funzionavano Gli Nier Prima Quando abbiamo fatto la prova Funzionavano Adesso no Però ho cambiato cuffie Adesso sento tutto Allora Comincia a raccontarmi di te A parte che ci siamo già incontrati Ma raccontami Racconta di nuovo di te Perché Anch'io sono curiore Di sapere qualcosa Intanto Perché ti chiami Florilegio Io mi ricordo Che Florilegio Fra l'altro Era uno spettacolo Di un circo Che si chiamava Florilegio Era un circo Molto bello Molto bravo Questo Florilegio Raccontami invece di te Matteo Di dove Allora Io sono originario D'Ancona Ma vivo da 8-9 anni A Bologna E In realtà La mia carriera Tra virgolette Come cantautore È iniziata Tanto tempo fa Perché scrivo canzoni Da tantissimi anni Ho fatto uscire un disco Nel 2019 Con il mio vero nome Cioè Matteo Polonara Che è un disco Totalmente indipendente Autoprodotto Che si può ancora Rintracciare Su Spotify Insomma Qualsiasi cosa utilizzata Per ascoltare la musica E si chiama Nella vasca O nel giardino di fianco E poi nel 2021 Ho deciso di Risuscitare In qualche modo Di cambiare nome Dato che Non Non mi sentivo Molto bene A uscire fuori Con il nome Matteo Polonara Ho aspettato Un anno Il 2020 In cui non ho fatto Più o meno nulla Ho fatto solo concerti In giro E Niente Nel 2021 Sono rinato Appunto Come Florilegio Questo perché Volevo trovare Un nome Che in qualche modo Racchiudesse All'interno Tutto ciò Che è per me Il fare musica Che non è assolutamente Pubblicare le canzoni Su Spotify Quello lo faccio Per poi suonare Dal vivo In qualche modo Ma fare musica Per me è molto altro E ho scelto Questo nome Florilegio Perché Un florilegio È in qualche modo Un insieme Di composizioni Che vanno a formarne Una unica Il termine L'ho preso Da una lezione Al Dams Che ho seguito Di storia del teatro E dello spettacolo Perché i comici Dell'Accademia dell'Arte Creavano Dei propri Florilegi Per andare a rappresentare La parte Che ne so Di Arlecchino Andavano a prendere Un Non lo so Attori Che l'avevano fatto Prima di loro Per cui una smortia Una battuta E andavano a comporre Così il proprio personaggio E per cui Questo è un po' il nome Per questo ho scelto Il nome Florilegio E ho capito Ma tu Che cosa vai a prendere Dagli altri Per comporre Il tuo personaggio Beh Questo chiaramente Come qualsiasi musicista Qualsiasi Qualsiasi Di tutti i tipi Non solo cantautori In realtà Volevo dire cantautore Ma in realtà Non solo i cantautori Qualsiasi musicista Va ad attingere Da tutto quello che Per lui sente importante Sente forte E lo trasmette Poi nella sua musica Sicuramente nella mia musica Ci si possono ritrovare Tantissime influenze Di diverso tipo Ma non solo A livello musicale Ma anche per esempio Nei testi Riferimenti cinematografici Riferimenti a Anche banalmente Il mio titolo Del disco Che però Non voglio spoilerare E Lo stavo per fare Ma non lo voglio fare In realtà Perché uscirà a breve Il mio primo disco Come florileggio E Per cui ci sono Tante cose In realtà Che Vanno poi A formare Vanno a intersecarsi Tra loro E formano Quello che sono Ed è per questo Che ho deciso Di chiamarmi florileggio Senti Matteo Ma quali sono Gli artisti Che ti hanno Influito Cioè Quali dischi Ascoltavi Del ragazzino Che poi ti rimangono Dentro Beh Sicuramente Grazie ai miei genitori Ho ascoltato Tantissimi dischi Di cantautori italiani Quando ero proprio bambino Per cui ho ascoltato Tantissimi dischi Di venditti Tantissimi Tantissimi dischi Di Paolo Conte Di Di Vinicio Caposela Di Battisti E questi Sicuramente Sono quelli Che devo I miei genitori Anche Simon Egan Funken Ma anche Pink Floyd E poi dopo Da lì Ho attivato In qualche modo Eddie Gregory E ho attivato La mia ricerca personale Che è andata Dall'indie rock Inglese Al punk Alla new wave E Mano a mano Mi sono formato In questo modo Sicuramente Un artista A cui devo molto È David Bowie Che l'ho Mangiato E rimangiato In tanti periodi Della mia vita E non solo A livello musicale È di forte ispirazione Per me Senti una cosa Ma perché tu Da Ancona Sei andato a Bologna? Perché fondamentalmente A Dancona È difficile fare musica Anche perché è una città Che non è una città Che non ha neanche un vero e proprio locale Con un palco Banalmente Per cui è una città Molto ostica Per fare arte Musica e spettacoli Per provare a far sì Che l'arte sia un lavoro Ecco ma l'arte è diventato un lavoro Ancora attualmente no Ma ci sto lavorando Sto ancora studiando Ah tu stai studiando E cosa studi? Sto finendo il Dams appunto E nel frattempo Lavoro in un live club Lavoro a Locomotive Qui a Bologna E in più faccio Tantissimi altri lavoretti Inerenti alla musica Comunque cerco di circondare La mia vita di musica Ovviamente Dams musica Sto finendo Ah ma si impara qualcosa Il Dams? Cioè Perché mi sembra Che sia molto più teoria Che pratica il Dams Assolutamente sì È vero Che è tutta teoria Ma è interessante Anche la teoria In realtà delle cose Anche perché poi Dalla teoria Ho tanti altri modi Per mettere in pratica le cose Però senza sapere la teoria Non puoi mettere in pratica le cose Senti Allora Veniamo al tuo Al tuo brano Non ci capiamo più Intanto devo capire una cosa Invece Capiamoci Questo qui è il primo singolo Dell'album Che uscirà Che cos'è questo Non ci capiamo più Allora In realtà Nel tempo Ho fatto uscire tre singoli Come Florilegio Tende ad aprile del 2021 È Gonna a luglio Sempre del 2021 Ortica nel 2022 E mentre Non ci capiamo più È l'ultimo singolo Che farò uscire Prima dell'uscita del disco Anche gli altri tre brani Sono all'interno del disco Che però invece Sarà composto di dieci brani Per cui il resto Sono inediti Oltre questi quattro Ma l'album come si chiama? Eh questo non lo voglio dire però Ma perché non lo vuoi dire? Questa è una cosa che non capisco Cioè non è che Hai capito Visto che parli di David Bowie E il nuovo disco di David Bowie E tutta la stampa Sta aspettando È un'occasione per dirlo Perché non lo dici? Perché l'annuncerò più avanti? Vabbè Io rispetto Questi marketing strani Degli artisti Che è fantastico Invece Prima di ascoltare il brano Voglio che tu Primo mi racconti il brano E poi dopo ti farò Delle domande sul video Raccontami Non ci capiamo più Allora Non ci capiamo più È un brano che ho scritto Circa un anno e mezzo fa Il giorno che è morta Una persona a me molto cara In realtà Non avevo già Appunto più Veramente rapporti Con questa persona Perché c'era già Dell'incomunicabilità E in quel momento È stato un periodo Della mia vita In cui ho sofferto molto Perché mi sono accorto Della fragilità Dei rapporti umani Ancora di più Di quanto Non lo sapessi già Forse E di quanto Veramente sono Sono fragili Di quanto L'essere umano È fragile E ancora di più I rapporti tra gli esseri umani Per cui il brano Intanto parla di questo E ovviamente Tramite l'incomprensione Perché l'incomprensione? Perché Faccio molta fatica A spiegarmi Faccio molta fatica A Ed è per questo Che scrivo canzoni In realtà E faccio fatica A esprimere me stesso Se non con la musica E con Con le parole E soprattutto A esprimere veramente Ciò che voglio dire Per cui Non ci capiamo più Nasce da questo Nasce da Da un periodo Molto doloroso Per me E da un periodo In cui mi sono accorta Di quanto Di quanto Sono vulnerabile Di quanto in realtà Siamo vulnerabili tutti Perché Infatti Il ritornello Dice Dice questo Ognuno Ognuno parla Con il proprio linguaggio Comprensibile Solo a se stesso Per cui soffriamo E non ci capiamo più E diciamo che È un po' la chiave Del brano Poi è proprio questa Una cosa Volevo sapere Ma Chi è quella persona Che è venuta a mancare? Era un tuo parente stretto O una persona Tecara In altro modo? Sì Tuo papà O tua mamma? No 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 Sono vivi E forse mi stanno Anche ascoltando O vedendo Li saluto anzi Ah ok 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 Ecco Adesso viene la domanda Sul video Perché tu Nella prima parte Del video Hai Una benda Sulla bocca? Sempre per Trasmettere L'idea di Incomunicabilità Nel senso Che è un finto Playback Ma Non può Neanche Far finta Di essere un playback Dato che ha una benda Nella bocca Ah Ho capito Sempre per In qualche modo Tutte le dinamiche del video Sono sempre per Accentuare ancora di più Questo fatto Dell'incomunicabilità Uno non può Non posso cantare Su una benda Sulla bocca Vero Però Devo dirti anche Che ultimamente Ci hanno messo Tutti una benda Sulla bocca Quando incontravamo Le altre persone È vero È vero Però In realtà In questo senso È un pochino Differente Il gioco Che abbiamo Cercato di fare Con il regista Tra l'altro Del video Che ci tengo A nominare Alessandro Panseri Il gioco Che ha ideato In realtà Per me Era un po' diverso Se vedi Poi nel videoclip Per esempio Anche il mio bassista E il mio Il mio chitarrista Hanno le mani Legate Allo strumento Sempre per Rimarcare Il fatto che Il batterista È bendato Io sono bendato Mentre il chitarre Basso Hanno le braccia Legate allo strumento Sempre perché Insomma così È più scomodo Suonare possibile In qualche modo Però Nella seconda parte C'è una liberazione Perché tu Non hai più la benda Nella seconda parte Del video Esatto Perché proviamo A aprire un finale In qualche modo Proviamo a comunicare Con le persone Infatti si vede anche Che abbiamo un pubblico Ok 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 Io In attesa dei tuoi album In attesa magari Ma tu fai molti concerti Perché tu hai detto Che l'importante È esibirci dal vivo Diciamo che Le faccio abbastanza E cerco di farne Il più possibile Adesso sono fermo Da fine ottobre Apposta In realtà Perché volevo In qualche modo Aspettare che il disco Fosse concluso E l'abbiamo concluso In questi mesi E Uscirà Tra pochissimo Perché uscirà In primavera Diciamolo Ad aprile Uscirà E Per cui Tra molto poco E da quel momento Ritorneremo a fare live Di cui la maggior parte Saranno full band E Questo mi fa molto piacere Perché non vedo l'ora Perché Faccio musica Per questo motivo qua Perché Per me la cosa essenziale In qualche modo È il contatto Con Con le persone Dato che non riesco A spiegarmi E non riesco In qualche modo Essere presente Veramente Nella vita Normale E poi Quando sto sul palco Tramite le mie canzoni Tramite i miei testi Esce fuori Quello che sono Veramente Ancora di più È forse in quel modo Che riesco a parlare Veramente Secondo me Ti fai un po' troppe Pipe mentali Tu eh Probabile Può essere Sono abbastanza paranoico Ci sta Eh ma Sì Ma di fatti Scusa Allora Ah deve uscire l'album Ma non lo dico Poi dopo La cosa che ti piace di più È fare i dischi dal vivo Però Forzatamente Da ottobre Non mi esibisco Perché aspetto Che esca il disco Cazzo ma Vai divertiti Che te ne frega Eh hai ragione Hai ragione Proverò a pensare A questa cosa Eh esatto Lasciati andare Matteo Ma lasciati andare Ma sei giovane Hai tutto il tempo Per sbagliare Per sperimentare Ti stai a fare Delle strategie Come se stesse Per uscire Il primo disco Della reunion Dei Pink Floyd Cazzo È un disco Di un ragazzo Che si chiama Fronilegio Che ama Suonare dal vivo Però aspettiamo Perché Deve uscire il disco Ma si diciamo Esce ad aprile Ma dai Ma lasciati andare Ma togli questi freni Che hai Cavolo Ma guarda Poi non si tratta Neanche tanto di strategia O di chissà Quale marketing dietro Ma è semplicemente Che ragiono così No ma E di fatti Il problema è quello Perché se fosse Una strategia Ti dico Cambia stratega Il problema è che Tu sei così Sei tu che ti devi Lasciare andare Anche perché sei bravo Io ti saluto E noi ci vediamo Il brano Di cui abbiamo parlato Finora Vedete che all'inizio È bendato Che secondo me È la parte che gli piace Più quella bendata Perché poi alla fine Giustifica il fatto Che non comunichi Vero In qualche modo Matteo Lasciate andare Florilegio Ciao Matteo Grazie mille Ciao Non ci capiamo più Non ci capiamo più Odio le auto Celebrazioni Odio le celebrazioni In generale Oggi però mi sento Come di ricordare Ricordarmi Gli anni che ha passato Nuovamente la morte Si è avvicinata a me Mi ha sfiorato Ma non mi ha toccato Confuso Vulnerabile Cianuro nei sogni Sobbalzinello Stomaco Ma perché Io mi chiedo perché Sono nato così Strano ma la verità È che siamo tutti così Ognuno Parla con il proprio linguaggio Comprensibile Solo a se stesso Per cui soffriamo E Non ci capiamo più Non ci capiamo più Non ci capiamo più Non ci capiamo più Che cosa mi serve? Di cosa ho bisogno? Mi esaurisco del tutto Pensando ogni secondo Quante volte ho ritenuto Più facile Nascondermi Quante volte Non sono mai esistito Il mio ologrammo ubriaco Ho vissuto per me Ma io dov'ero All'ombra Dove il sole Non arriva mai Ma perché Io mi chiedo perché Sono nato così Strano ma la verità È che siamo tutti così Ognuno Parla con il proprio linguaggio Comprensibile Solo a se stesso Per cui soffriamo E Non ci capiamo più 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 Florilegio Questo è Florilegio Questo è Florilegio Non ci capiamo più Eh Eh ragazzi Eh sì Bisogna Lasciarsi andare Ragazzi Lasciarsi andare Vivere Vivere Bello l'outro L'outro sarebbe il finale Per l'intro L'outro Bella questa canzone di Florilegio Bello l'outro Eccetera Prima eravamo a Bologna Torniamo a Bologna A Bologna c'è un gruppo Si chiamano 3D Project Progetto 3D Eccoli qua 3D 3G 3G È un progetto 3G Ma cosa state facendo? Progetto 3G Mi sentite? Oh mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Allora dovete uscire Allora uscite e rientrate No Sì lo facciamo Oh Stasera È la sera Della incomunicabilità ragazzi Porca vacca Porca vacca Arco Ciuda Allora Progetto 3G Io avevo scritto 3D Eccolo qua Vediamo un po' Mi sentite? Siamo qua Ci senti? Sì ma tu mi senti? Mi sentite? Mi sentite? Sì Sì Noi sì Ok Ok Quindi Siete tre stronzi Mi sentite? No Mi sentite? No Niente Stasera le comiche Stasera vado in coma Le comiche ragazzi Anche loro mi sa che non sentono Sì ma di fatti Io non so che cavolo Cavolo succede Stasera Adesso è uscito Poi rientra Altrimenti Anticipiamo Anticipiamo Marte Che lo vedo già collegato Se no Vediamo Eccoli qua di nuovo 3G Da Bologna Ci siete? No Adesso sì Non ci sentiamo Ok Ci siete tutti? Noi ci sentiamo Non so se tu ci senti a noi Certo che vi sento Mi sentite? Io vi sento Ma tu ci senti a me? Oh No Io non vi sento Non vi sento Cioè voi mi sentite? Senti Allora Diggi che io non li sento Eh Stasera Noi Eh? Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ma da dove vi faranno? Da lì o da là? Non dico più il caso Ma voi adesso mi sentite? Ci siamo Ci siamo Ma mi sentite? Adesso ci sentiamo Redditi Altrimenti No No Come? Ma mi state sentendo o no? Adesso ti sentiamo Ok ma che cosa state ascoltando? Noi Eh Noio Noio Eh Mi Vabbè Senti Non so come comunicare con voi ragazzi È arrivato un meteorito sulla terra E cioè Che cazzo Ci senti adesso? Io vi sento sempre Non va proprio Non va Eh Allora Allora Guarda il labiale Io vi sento sempre Lui ci sente sempre Eh Bravo Io vi sento Abbiamo capito che tu ci senti Ma noi Se noi non sentiamo te Capito? Eh Ho capito che non senti Allora Non so come fare Cioè prima ce l'avevamo fatta Aspetta Redd Entriamo con l'altro Chiudiamo con questo Proviamo con l'altro Va bene Va bene Va bene C'è un acquazzone esagerato qua a Bologna Quindi non so C'è un acquazzone esagerato a Bologna C'è stato Ah sì Ah ecco Forse Ma cosa c'entra l'acquazzone Con il fatto che non senta C'è una capisca Ah che puttana ragazzi È un film di Antonioni È bellissimo ragazzi È fantastico Messaggi da orizzonti sconosciuti Allora Vediamo un po' Ok Ci siamo Così ci senti? Ci senti adesso? Sì E voi mi sentite? Ci senti? E voi mi sentite? Voi mi sentite? No 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 Noi Abbiamo cambiato telefono Eh E non E non mi sentite? Merda Abbiamo cambiato telefono Ma cos'è la roba? Allora 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 Facciamo Facciamo una roba Facciamo una roba Ok Capisci quello che io dico? Non sentiamo Sì, ok, ok, ok. C'hai il numero di telefono? C'hai il numero di telefono? Allora, chiamali al telefono. Sta buono, sta buono, ci penso io. Aspetta, aspetta, aspetta. Non ci muoviamo. Sta lì, non ti muoviamo, ok. Chiamali al telefono e poi dopo io ci parlo loro al telefono e poi li vedo, è l'unica maniera che abbiamo. Aspetta, 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 aspetta. Allora, adesso vi dico questo. Io adesso chiamo Mauro. Allora, vediamo un po'. Ecco fatto. Ci senti adesso? Allora, mi senti? Adesso sì, adesso sì. Va bene, va bene. Allora. Oh, è andata così? No, 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 però, però, allora, allora. Devi togliere il volume e devi ascoltare, devi togliere l'altoparlante perché ascolta solo uno, altrimenti è un casino. Nel telefono che io con cui sto parlando. Sì. Ok. Togli l'altoparlante e vai all'orecchio. Ok. Fatto. Ok. Alla vecchia proprio, ok. Alla vecchia maniera. Alla vecchissima. Fa così, tira un po', ecco, tira un po' più, tira un po' più. Allora, 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 veniamo. Questi qui si chiamano 3G Project. Cosa vuol dire 3G Project? Allora, 3G praticamente sta per le iniziali dei nostri cognomi. Cioè, io sono Gardella, lui è Giovannini. Giovannini e Giuliani. Ok? Quindi l'idea è praticamente fare un progetto unendo le nostre 3G. Ecco. E nasce da qua la questione. Che è un'idea di Stefano, il batterista. 2G. Ok. Allora, allora, andiamo avanti. Siamo invertiti, siamo invertiti nel video. Sì. Ok. Allora, allora, andiamo avanti, ok. È fantastico che io parlo al telefono con loro perché non si sentono un cazzo. Cioè, una roba. Non sentiamo niente. Non sentiamo un cazzo. Va bene. Allora, si capisce dalla Z che sono di Bologna. Allora, perché, perché voi non siete più dei ragazzini? Perché fate? Come no? Come no? Allora, scusa, lo vedi? Io no. Siamo ancora, no? Direi che, no? Eh certo, certo, certo. Sono le luci, si fanno i trucchi. Ma cosa fate per campare? Ah, di tutto. Di tutto. Cioè, proprio. io sinceramente ancora non so voi, ma io ancora non l'ho capito. Noi, siamo, vabbè, dai. Diciamo che siamo tre partite IVA. Esatto. Ok? Tre professionisti. Io sono nell'ambito, diciamo, pubblicitario. Alberto è nell'ambito dell'informatica e anche Stefano. Io metto sì. Sì, quindi state passando un bel momento. Le partite IVA in questo momento Godon. Se la Godon è la grande. Fantastico, no, no, ma è fantastico. Il momento è eccezionale. Sì, ma da quanto tempo fate musica voi? Allora, diciamo da sempre, separatamente, insieme, insieme, esatto, così. No, facciamo le Charlie Eisen, per un attimo. Dal 2018, dal 2018, sì. Ma fate concerti dal vivo? Sì, 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 sì. E che pezzi fate? I soli vostri o fate delle cover? No, facciamo, allora, chiaramente facciamo tutte e due, nel senso che noi abbiamo realizzato un EP l'estate scorsa con cinque brani, per cui sono chiaramente pochi per proporre un intero concerto e poi facciamo uniti un po' di cover nell'ambito un po' del genere nostro. Cover un po' diverso, eh? Cover un po' diverso, su, cover un po' diverso. Robin Ford. Robin Ford, cioè roba, ad esempio, più chitarristica, Robin Ford, Joe Bonamassa. Un blues meno commerciale. Esatto, esatto, dei blues meno, quelli un po' meno, un po' meno così, dai, sbordelloni, ecco, quelli un po' più ricercati anche come sonorità. Dove sei? Dove sei? Come Gary Moore, sta roba qua. Sì, sì, allora il termine sbordelloni è un termine che capiscono i pochi. Giusto, hai ragione, hai ragione. Sbordelloni è una roba. Hai ragione. No, no, perché fra l'altro, se io volessi tradurre sbordelloni non saprei tradurlo, perché i termini slang bolognese, cioè come qualsiasi dialetto, hanno una roba che non so tradurre, cioè come si può tradurre sbordelloni? Allora, diciamo così, dei pezzi un po' meno puttana, diciamo se posso dire, per cui, dall'orario, esatto, per cui così, facciamo un po' di robe così e poi ultimamente abbiamo inserito anche un repertorio un po' più geffato. Infatti c'è Alberto, che è lui. Ragazzi, qui ho bisogno che ci mettiamo d'accordo perché... Non guardare lì. Non guardare lì. Non guardare lì. Non guardare lì. Ad esempio suona il contrabbasso e Stefano suona la batteria con le spazzole e io uso ad esempio una semiacustica, per cui facciamo dei pezzi anche un po' non so più di George Benson, queste cose qua, o degli standard. Quindi quando abbiamo problemi di volume, a metà concerto cambia il repertorio, cambia gli strumenti e la gente... Facciamo un po' un robe un po' particolari, ecco. Però vedo che il pubblico gradisce, gradisce questa formula. Senti, ma tu mi hai citato Bonamassa, Nellian, Gary Moore, cioè ma hai citato i chitarristi bravi? Ma te Mauro come fai a fare? Te sei bravo sulla la chitarrista? Ma non sta a me dirlo. Questo non devo... Lo diciamo noi. Come si dice a Bologna è un manico. No, no, vabbè. È la passione, è la passione. Da una vita, da una vita. È un ragazzino che ho cominciato, quindi è la passione. Ecco tutto qua. Tra l'altro io sono stato da te, io sono stato da te, credo nel 93, eh? Con Carboni, con Luca. Ah, tu suonavi con Luca Carboni? Sì, sì. Ah, ma meno male che dopo ha cambiato chitarrista. È vero? No, aspetta, aspetta, no, aspetta, no, chiariamola però la cosa, chiariamola. Cioè io ho fatto solo dei danni, ho fatto solo dei casini, cioè veramente ho fatto dei grandi casini. Sono arrivato io, ho fatto dei casini. C'era già Mauro Patelli, che era bravissimo, il chitarrista storico di Luca Danavid, poi sono attratto io, ho fatto solo dei casini, quindi guarda, letale, l'esuberanza giovanile. Però ero bellino, eh? Ero bellino. Ah beh, ci fidiamo. Ma scusa, cuccavi? Cuccavi? Sì, sì, però il problema è che ero molto timido. Sul palco no, però dopo... Allora cuccava no. Il potenziale c'era, però il problema era dopo, che come si dice, mi... ero timido. Ero tutto un blef, capito? Cioè sul palco tutto bello figo, carico, scullettavo, facevo l'asino, però poi dopo alla fine, quando c'era da arrivare al ducco, poca roba. Ma poi ti sei sposato? Sì, sì, tanti tanti anni dopo. E c'hai dei figli? No, no, però c'è un gattone meraviglioso che è qua con noi. Woody. C'ho Woody qua. Dov'è? Dov'è? È lì, è lì, Woody. Prendi Woody, facci vedere Woody. Ah, spero, io lo faccio, te lo faccio, no, non lo prendo, ma te lo faccio. No, ci graffia. Ci graffi, no, no, ci graffia. No, purino, è tanto buono. Vedi? Udino, di ciao. No. No. Lui è Woody perché è Ronnie Woody dei Rolling Stones, uno dei miei miti, no? Quindi è Ronnie Woody. Ah, beh, certo, beh. Dei Stones che in realtà io poi lo amo più nei Faces, ecco, Rod. Io sono un fan di Rod. Infatti facciamo anche delle cose. Facciamo anche dei Faces. Esatto, dei Faces. E quali fate dei Faces? Stay With Me. Ah, Stay With Me, ma non era dei Faces, però, eh? Stay With Me l'ha fatto... No, no, sì, sì, dei Faces. Sì, sì, è di Ron Wood e Ron Stewart. Ah, ma l'ha fatto Stay With Me, però l'ha fatto anche Terry Raid, un Stay With Me, non so se è lo stesso Stay With Me. No, ho capito. No, 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 è un altro brano, è un altro brano. Ma ce ne sono diversi brani, eh, nel rock che si chiamano Terry Raid. Cioè, tu, tu, Mauro, conosci Stay With Me di Terry Raid? Ma, no, da quando... Sì, ma, no, ma io ho ascoltato tutta quella roba lì da quando ero un bambino, eh. Io tutta quella musica lì ce l'ho di brutto, eh. Lui? E noi? E anche loro, anche loro. Ah, troppo. Anche loro. Non siamo più di primo pelo, Diego. Eh, eh. No, di primo pelo proprio no, comunque... Secondo, dai, secondo. Secondo, dai. Secondo. Sì, ma da dove saltano fuori questi qui, tre G-Project? Ma il comico! Allora... Non criminale perché siamo buoni, eh. Sì, sì. Allora, adesso ascoltiamo, vediamo questo video. Si chiama Supernatural, che è cantato in inglese. Sì. Noi cantiamo solo in inglese, eh. Loro cantano solo in inglese. Devo dire che il loro inglese è fantastico perché è un inglese bolognaise. Ah, beh, lì è bello, no? Infatti, bolognaise. È un inglese bolognaise, quindi va benissimo. Bisognerà di fare le cose diverse. Sì, sì. Però io vorrei sapere, perché voi li vedete così, no? Poi, quando adesso vediamo il video, è una roba... Cioè, chi l'ha fatto quel video? Ah, allora, il video l'ha fatto, innanzitutto, se posso fare anche ringraziamento, eh, a Controcampo, che... Produzioni. Produzioni, che sono loro, sono di Venezia. Andrea Fasan, si chiama lui, il boss, il grande boss, che è un mio caro amico, e tutti i ragazzi che hanno contribuito da Max, che è il regista. Paolino. Paolino. Domenico. Domenico. Willi. Sì, sì, l'ho citato, l'ho detto Willi. L'hai detto Willi. L'hai detto Giorgio? Giorgio l'hai detto? Giorgio, 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 c'è anche Giorgio, c'è anche Giorgio, sì, sì, c'è anche Giorgio. No, perché ho un nome a caso, tanto ormai stai dicendo una troupe di cedro. No, beh, infatti, ma è giusto, dai, è giusto perché veramente hanno fatto una roba pazzesca. No, ma perché soprattutto sono amici, perché fare un video così raffinato, con tre scalcinati bolognesi come voi. Ma è un video apocalittico quel video. Sì, però è un video di speranza anche. Perché... Non so dove tu vedi la speranza in questo video. Alla fine, alla fine, la vedi alla fine, c'è il ditino, c'è il ditino, c'è la meteora che arriva e c'è il ditino che, puff, e salva la Terra. E salva la Terra praticamente, perché sarebbe praticamente la coscienza superiore, diciamo, un risveglio di coscienza sull'umanità, che fa in modo che, diciamo così, noi possiamo cambiare le cose. Però... Purtroppo le immagini non le abbiamo inventate, sono purtroppo vere. Ah, questo, certo. Cioè, in che senso le immagini non le avete inventate? Aspetta che ti passo... No, no, lo sento, sento. Lo senti bene, lo senti bene. Le immagini non le abbiamo create, sono immagini vere, riprese vere, quindi è il pianeta che sta subendo questo. Non è che siamo inventati nulla e più. Socia, ma avete iniziato come dei cazzoni, ma state parlando bene, porca vacca. Io tra un anno vado in pensione. Per cui sì, insomma, diciamo che il concetto è positivo. Il concetto è positivo, non è assolutamente negativo. Nel senso che noi abbiamo la facoltà, come sempre, di cambiare le cose. Però è chiaro che, come diceva Einstein, la coscienza che crea il problema non può essere quella che la risolve. Per cui ci deve essere un'evoluzione. Almeno io la vedo così. Questo è il mio modo di pensare da sempre. Allora, facciamo una cosa, ci vediamo il video e poi ci vediamo dopo, ok? Guardate questo video dei Supernatural, cantate in bolognese, però le immagini sono abbastanza realiste. Eccoli qua. Allora, facciamo un'evoluzione. Grazie a lei Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti 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 e quindi Grazie a tutti Grazie a tutti Tornerò Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Per me L'universo Grazie a tutti 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 Ma il video Grazie a tutti 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 E quindi Grazie a tutti Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E quindi Grazie a tutti Quando vuoi Grazie a tutti 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 E quindi Grazie a tutti Grazie a tutti Al momento Grazie a tutti 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora Grazie a tutti 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 Super 8 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti